L'ospedale di Polla si prepara a divenire il punto di riferimento per l'analisi dei tamponi covid per i territori Vallo di Diano, Golfo di Policastro, Bussento e Mingardo. A breve il presidio sarà dotato delle apparecchiature necessarie per la processazione dei tamponi molecolari SARS-CoV-2. Con la collaborazione ed il coordinamento dell'istituto zooprofilattico sarà garantita una maggiore velocità di refertazione dei tamponi dell'interarea sud di Salerno. Il macchinario assegnato al curto deriva dalla giudicazione del secondo lotto della gara espletata da Soresa e i reagenti utilizzati saranno messi a disposizione dalla struttura commissariale per l'emergenza covid-19 per il tramite di Invitalia. In questo modo, ha dichiarato il presidente regionale Vincenzo De Luca, prosegue il piano per il potenziamento delle strutture sanitarie della nostra regione. Il laboratorio dell'ospedale di Polla, in una zona particolarmente colpita nella prima fase della pandemia come il Vallo di Diano, è un particolare segno di attenzione al territorio nell'ottica del potenziamento e miglioramento dei servizi sanitari. Dal Golfo di Policastro, il responsabile della CGL di Sapri, Domenico Vrenna, torna a chiedere alla regione di dotare dello stesso macchinario anche gli ospedali di Sapri e Vallo della Lucania.